La dottoressa De Muro, farmacista presso il presidio ospedaliero Marino, ci illustrerà adesso la sua esperienza, il suo coinvolgimento in queste tematiche che caratterizzano l'utente di area critica, non lo voglio chiamare paziente in rapporto al fatto che noi cerchiamo come ASD Cagliari di garantire un percorso assistenziale che possa raggiungere un obiettivo che è quello di poter reinserire nel loro ambiente familiare e di cercare di dare una migliore qualità di vita a questi pazienti. Tutti gli operatori che si stanno prodigando in questo percorso, sia quelli dei servizi territoriali che quelli soprattutto ospedalieri dell'area delle rianimazioni, hanno raggiunto un accordo operativo tale che possiamo definire l'unico esempio di continuità ospedale-territorio, proprio la collaborazione, la condivisione che c'è tra i servizi territoriali dei farmacisti, i farmaceutici, delle cure domiciliari e soprattutto in ambiente ospedaliero dell'area delle rianimazioni. Vi ringrazio per questo. Prego. Grazie per la presentazione. Io mi sono allargata un attimino, il titolo della mia relazione parla di presi di complessi nelle cure domiciliari. Mi sono allargata perché diamo uno sguardo un attimino ai farmaci e ai dispositivi medici. dispositivi medici che sono altamente specialistici, vista la criticità dei pazienti che si seguono sia in ospedale, in terapia intensiva, e ho visto anche nell'RSA, nell'assistenza domiciliare. Mi rifaccio un attimino alla nostra esperienza ospedaliera. Nel 2004 abbiamo attivato la distribuzione diretta delle parine a basso peso molecolare in ortopedia. Quindi abbiamo seguito la normativa della legge 405 del 2011 che prevede appunto l'incremento di queste forme di distribuzione diretta ai pazienti in dimissione da parte degli ospedali con l'obiettivo di migliorare il servizio e ridurre, contenere quindi anche le spese. È molto importante contenere la spesa, è importante per tutte le aziende, per tutti i direttori generali. Ma a noi sanitari, a noi farmacisti, interessa un altro aspetto. Questa distribuzione diretta ci permette infatti di istituire una rete permanente di distribuzione da parte delle strutture aziendali. Quindi riusciamo a raccogliere delle informazioni per il servizio sanitario nazionale. Riusciamo a fare i farmacisti, a esternare la nostra professionalità con operazioni di farmacovigilanza. Quindi monitoriamo i farmaci e i pazienti per registrare e sorvegliare tollerabilità, esiti e complianze delle terapie. Assicuriamo sicuramente la continuità assistenziale tra ospedale e territorio. Cosa garantisce questa distribuzione? È un grosso vantaggio per il paziente perché prima di uscire dall'ospedale riesce ad avere la terapia che serve. Quindi non deve poi andare in una farmacia aperta al pubblico, prima ancora avrebbe dovuto farsi prescrivere il farmaco dal medico di base e poi sarebbe dovuto andare in una farmacia a ritirare il farmaco. Quindi la dispensazione in farmacia ospedaliera è molto vantaggiosa per il paziente. Per noi farmacisti è importante perché monitoriamo l'utilizzo del farmaco, quindi verifichiamo l'appropriatezza della terapia. Quindi la distribuzione diretta diventa un momento di verifica della prescrizione specialistica. In questo momento il servizio di farmacia ospedaliera ha le porte aperte, un dialogo aperto, sia con le unità operative ospedali aeree, con il territorio e non ultimo il paziente e cliente. Dunque la distribuzione diretta ci ha permesso anche di condurre delle indagini retrospettive. Vorrei però quindi vedere un pochino il numero di agenze ordinarie, le percentuali a seconda dei reparti. Ci ha permesso anche di definire quali erano i casi urgenti, la percentuale dei casi urgenti dei DRG medici e chirurgici, i casi urgenti DRG chirurgici selezionati rapportati ai casi totali. Ci ha permesso anche di stabilire qual era il range di età dei pazienti in dimissione. La percentuale massima è quella rappresentata dai pazienti che superano i 66 anni. In ospedale in effetti abbiamo anche pazienti ultracentenari. Abbiamo potuto verificare la provenienza dei campioni, dei pazienti dimessi in quel periodo. Molti provengono dall'ASL 8 e tanti altri da altre ASL sarde. Abbiamo studiato e verificato che tipo di profilassi si fa nelle unità operative ospedaliere. Abbiamo verificato e proposto ai nostri specialisti ortopedici delle schede per valutare il rischio e per definire qual era la terapia più idonea in profilassi. Riusciamo a dare anche, molto importante è questo, delle informazioni al paziente in dimissione. La collega ha predisposto, la dottoressa Iba ha predisposto a queste schede. In una diamo le istruzioni sulle modalità di somministrazione della eparina basso peso molecolare. Nell'altra invece elenchiamo, parliamo di interazioni esistenti tra eparina ed altri principi attivi. Li abbiamo elencati sia per principio attivo che per nome commerciali di specialità medicinale. Questa scheda consigliamo sempre di presentarla anche al medico di famiglia, al medico curante. C'è stato poi tutto uno studio sulla profilassi tromboibolica venosa in ortopedia. Ci sono varie scuole, chiaramente qui si usa la scuola europea preoperatoria. Andrei Valoccia. Comunque questa slide dimostra il risparmio notevole che abbiamo avuto, seppur nella prima fase, con la distribuzione diretta. Per quanto riguarda fino al dicembre 2004 circa il 50% di risparmio. In sintesi, la distribuzione diretta è un momento di verifica della prescrizione specialistica. Ci ha permesso verifica che va fatta dialogando noi farmacisti con gli specialisti. Quindi si è rafforzato sicuramente l'interazione tra servizio di farmacia unit e operativa. E' vantaggiosa per il paziente questa dispensazione in ospedale perché abbiamo visto che i pazienti in dimissione provengono anche da paesi, da zone molto lontane dal nostro ospedale. Sicuramente ci permette di ottenere con efficacia la continuità terapeutica ospedale e territorio e ci permette di razionalizzare e ottimizzare le risorse economiche, cosa molto importante per i nostri direttori generali. Allora, a livello ospedaliero, con questi farmaci, con l'eparina, non si hanno granchi problemi. Se parliamo però di pazienti critici che abbiamo in terapia intensiva o che si seguono a domicilio o nell'RSA, parliamo di farmaci particolari e di dispositivi medici molto complessi. Anche a questo livello, quindi, sul territorio dispensiamo, chiaramente insieme ai colleghi territoriali, farmaci, stupefacenti, soluzioni infusionali, emoderivati, integratori per nutrizione enterale, soluzioni già pronte, sacche già pronte per la nutrizione parenterale. Si dispensano dispositivi medici altamente specialistici, nonché quelli di uso comune. Per quanto riguarda i farmaci, vorrei porre alla vostra attenzione delle recenti circolari del nostro assessorato, relativamente alla dispensazione di farmaci in classe H, ex OSP1, farmaci che si possono dispensare anche alle RSA, secondo questa circolare, in situazioni particolari, è su autorizzazione delle direzioni sanitarie delle ASL. Chiaramente i pazienti devono essere pazienti molto critici, che hanno assoluto bisogno di questi farmaci. Farmaci in fascia H, ex OSP1, possono essere antibiotici per via endovenosa, tipo il linezolid. Questa circolare è ancora più recente. Ecco, anche a livello domiciliare, secondo questa circolare, in casi particolari, si possono dispensare farmaci in fascia H, cioè farmaci prettamente ospedalieri, di uso ospedaliero. Si possono dispensare in situazioni particolari sotto controllo, chiaramente, del medico specialista. Si possono dispensare anche a domicilio. Dunque, lasciamo un pochino i farmaci, parliamo di dispositivi medici altamente specialistici. Vorrei fare una carrellata su quello che sono, velocemente, i dispositivi specialistici che noi dispensiamo alla terapia intensiva. Scusate un attimo. Comunque, la nostra terapia intensiva è molto attiva, molto attenta a quelli che sono i bisogni del paziente. Da noi si esegue dialisi in terapia intensiva. Usiamo sistemi per emodinamica. Vorrei fare una carrellata veloce, ma su tutti i dispositivi. Usiamo sistemi elastomerici, kit per somministrazione, per infusione, per nutrizione interale, sistemi di drenaggio chirurgico, sistemi per stomia. Un problema che mi sono posta, che fare con i dispositivi medici, con i pazienti in dimissione ospedaliera. Cioè, noi in ospedale, in farmacia, non dispensiamo dispositivi medici. Eppure, io credo che il paziente in dimissione ne ha bisogno. E qui c'è una forte criticità. Come fa lo specialista ad assicurare, simultaneamente alla dimissione, anche i dispositivi medici? Quanta burocrazia c'è? Come fa ad abbreviare i tempi burocratici? Quali sono le procedure attivate? Quali sono le criticità? Le vorrei conoscere. Bisogna parlarne insieme. Cerchiamo di risolvere questo problema. Sia per il paziente in dimissione, dalla terapia intensiva, sia per il paziente domiciliare, che ritorna in ospedale, non so, per un cambio di cannula tracheostomica. Chi fa che cosa? Chi sono gli attori? Chi collabora? In modo multidisciplinare. Io penso che il farmacista ospedaliero debba avere un ruolo importante in tutto ciò. Un ruolo per aiutare i sanitari e soprattutto il paziente. E allora, attivando tutte le procedure giuste, oltre che verificare la prescrizione specialistica, sicuramente è molto importante mettere al centro della nostra attenzione il paziente e il cliente. E' lui il fulcro che deve muovere tutto. E' lui che ci fa dialogare con le unità operative ospedaliere, con i medici di base, con le farmacie aziendali, che siano ospedaliere o territoriali. vi ringrazio per l'attenzione. Ringraziamo la dottoressa De Muro per questa relazione che era tecnica, ma sottendeva dalle problematiche importanti che ha voluto trasmettere a voi, ma anche a me in particolare. e che stiamo chiaramente chi è dentro il mestiere ha letto quello che ci ha raccontato. Ci sono sicuramente delle criticità importanti. Io ho detto una cosa importante nella mia relazione, che se funzionano le cure domiciliari, funzionano perché dietro l'istituzione ci sono le persone. e le persone superano, e questo da sempre, tutte le ruggini che può esserci nel sistema burocratico. E magari qualche volta qualcuno viene travolto dagli eventi, soprattutto se poi un'unità operativa incomincia a lavorare in maniera importante e quindi c'è un consumo di materiali importanti. Tutto questo vale per tutti, perché oggi sono in sala tutti gli attori, giusto mentre stavamo prendendo un caffè non li abbiamo messi dentro, ma gli specialisti ambulatoriali ci danno una bella mano quando vengono poi a controllare e a sistemare alcune situazioni critiche.